eccoci qua allora raggiunge esplorare isole a sud est stiamo ancora facendo quella quest lì raga solo che stavo facendo qualcosa la cosa la 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 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 1 e lì 3, 4, 5 e 6 lo mettiamo in qua la cipolla uh anche qua sono nuove cose non l'avevo vista quindi 1, 2, 3, 4 facciamo la parte del bere madonna ragazzi ma che roba ma dai ma sei serio cioè perde la in un attimo fa qualche lavoro qua di portare la roba un secondo un secondo un secondo un secondo Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.